Litorania abbandonata sia d'estate che d'inverno. Sono anni che attendiamo una scogliera. C'è amarezza nelle parole di Egeo Di Dato, direttore dell'Ido del Sole, il Litorania, attore del Greco. Sotto accusa le condizioni del litorale, la mancanza di eventi per attrarre gente soprattutto nel periodo estivo, la pulizia, il degrado e non da ultimo l'erosione della costa. Problematiche che inevitabilmente vanno a penalizzare le presenze per la stagione balneare, di cui la richiesta di maggiore attenzione e dei necessari provvedimenti per il rilancio della risorsa mare anche in un'ottica turistica. Siamo questa mattina a Lido del Sole, Litorania, a Torre del Greco, ormai siamo nel vivo dell'estate. Come vanno le presenze? Male. Perché? Perché la Litorania è morta. Il nostro litorale purtroppo sta finendo. A che cosa si riferisce? Alle condizioni delle spiagge, al mare, al litorale? Mi riferisco un poco all'amministrazione comunale che per quanto riguarda la Litorania è in un abbandono totale, cioè non si fa niente per cercare di riavvivare la Litorania che secondo me è l'unica risorsa che Torre del Greco ha ed è il Litorale Torrese. Secondo lei cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe organizzare un po' qua a livello di pulizia. Abbiamo queste ringhiere qua che sono 15 anni, 16 anni che sono state messe ma mai fatto una manutenzione. Se qualcuno si fa male ci sono i tubi del passamano pieni di buchi, ruggine. Se qualcuno si fa male deve andare in ospedale perché prende il tetano. E poi al riguardo del mare, purtroppo il mare si sta mangiando tutte le sabbie. Quindi c'è una grossa erosione? Soprattutto da questo lato qua ci sta un'erosione, oramai non sappiamo più, ma penso che se andrà avanti così se non si prenderà un provvedimento per la scogliera l'anno prossimo questa zona qui non potrà montare. Quindi sarebbe necessaria una scogliera? La scogliera sono 65 anni che si doveva mettere qua, poi ci avevano promesso che a novembre l'anno scorso avrebbero iniziato, poi da novembre siamo passati a febbraio, adesso da febbraio siamo passati a settembre. Non lo sappiamo se poi ci sarà qualche altro rinvio. Lei prima ha parlato di degrado, abbandono, abbiamo visto che anche le aiuole sono nel degrado. Soprattutto le aiuole sono nel degrado e diciamo che latita tutto qui alla Litorania, non solo le aiuole. C'è una grande amarezza nelle sue parole? Allora io ho 66 anni, sono scesi giù in Litorania quando avevo 7 anni. Mi ricordo la Litorania degli anni, fine anni 60, anni 70 quando Torre del Greco era zona turistica. Adesso purtroppo non ci si può fare nessun evento perché agli stabilimenti balneari se facciamo qualche cosa, alle 10 e mezza alle 11 viene la polizia, i carabinieri, l'APS perché dobbiamo, diamo fastidio alle persone che ci abitano e purtroppo questa è la Litorania. Ma voi stabilimenti balneari rispetto a queste problematiche fate fronte comune o invece c'è, ci sono insomma idee discordanti? No, noi siamo tutti quanti concordi su questo. Io parlo per il litorale intero, per tutti gli stabilimenti, per tutte le attività commerciali che ci sono in Litorania. La Litorania è abbandonata sia d'estate che d'inverno soprattutto. Quindi insomma la stagione balneare è difficile, eppure molte persone si lamentano anche dei prezzi alti qui in Litorania. Ma le molte persone si dovrebbero riguardare un po' con le spese che hanno gli stabilimenti balneari e i prezzi che ci sono nelle altre zone. Noi parliamo di Castellammare, non parliamo di Rimini e Riccione. Un ombrellone e due lettini ci vogliono 45 euro. A Torre del Greco dal lunedì al venerdì sono 16, il sabato 20, la domenica 25. E ci abbiamo questi prezziari e qua è un prezziario che abbiamo da tre anni. Parliamo invece del mare. L'ARPAC ha promosso il mare di Torre del Greco, però anche su questo ci sono a volte lamentele. Allora, l'ARPAC a noi ci sta dando acqua eccellenti solo due anni. Per quanto riguarda la giornata che il mare è un po' sporco, però è sporco perché sono cose che vengono buttate a mare. Anche l'amministrazione comunale con uno spazza mare come sta a Castellammare, come sta a Portici. Purtroppo noi questa richiesta l'avevamo fatto tre amministrazioni fa. Chiudiamo questa intervista proprio con un appello al sindaco di Torre del Greco. Il sindaco, anzi non chiamo nemmeno sindaco, la chiamo Luigi, Luigi Mennella. Non dico al 100% di tutto quello che ci era stato promesso, però almeno un 50, anche un 40 ci accontenteremo.